I valori della Costituzione li ho trovati tra la gente composta di Cutro. Sono alcune delle parole pronunciate al Capo dello Stato il 31 dicembre scorso in occasione del messaggio di Finiano, ricordando proprio il popolo di Cutro, popolo solidale nei confronti dei migranti. Li ho visti testimoniati da tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nella composta pietà della gente di Cutro. Questa frase è stata impressa su una lapida all'interno del comune di Cutro, cerimonia di inaugurazione con il sindaco Antonio Ceraso e con il prefetto di Crutone, Franca Ferraro. Per noi è un grande onore ed ecco perché quelle parole non voglio che vengano messe nel dimenticatoio e quindi questa lapida sta a ricordare quelle parole che ci hanno gratificato moltissimo. Però a quelle parole dobbiamo produrre fatte. Istillare i valori della solidarietà, dell'accoglienza soprattutto tra le nuove generazioni. Tutti questi messaggi vanno in questa direzione. Non è il semplice ricordare ma vuole svegliare le coscienze di ognuno di noi perché queste tragedie debbono essere proprio indelebili nella memoria di qualcuno, di noi tutti e non solo delle istituzioni ma della gente comune che ha vissuto questa immane tragedia come un lutto di famiglia. Ed ecco da qui le parole del Presidente della Repubblica, da qui le parole del Presidente della Repubblica che vanno in questa direzione. È stata un'emozione fortissima, di una commozione immensa. Tant'è vero che poi ci siamo scambiati nei giorni seguenti con il sindaco di Cutro un pensiero, un pensiero sentito, spontaneo. Quando il sindaco mi ha parlato di questa targa, se avevo piacere di scoprirla insieme a lui, ho detto di sì. Ho detto di sì perché in realtà le parole del Presidente della Repubblica sono rivolte a Cutro ma in realtà sono rivolte all'intero territorio calabrese. L'ho detto in altre occasioni e mi fa piacere ripeterlo anche oggi. Al contrario di altre situazioni, l'accoglienza, l'inclusione del territorio calabrese è sempre stata massima e l'ho potuta anche toccare con mano perché è un'inclusione sentita, non è un aspetto di facciata, è un modo di darsi agli altri.